In 48 ore gli investigatori chiudono il cerchio. C'è una svolta clamorosa nelle indagini sullo spaventoso rogo di martedì scorso a San Martino in Pensilis, rogo che ha danneggiato alcune abitazioni e costretto un centinaio di persone a dover lasciare per alcune ore le loro case. I militari hanno subito sentito decine di persone analizzato filmati di telecamere pubbliche e private. Gli accertamenti si sono poi orientati anche sui video postati sui social dagli abitanti del paese. Proprio questi ultimi sono risultati fondamentali per far prendere alle indagini la piega giusta. Il rogo è stato doloso. Nelle immagini analizzate in ogni dettaglio e ingrandite sono state trovate le sagome di due persone intente ad accendere le fiamme nelle campagne di San Martino. Sull'identità dei piromani i militari mantengono ora il più stretto riservo ma le due persone sono state già identificate e denunciate alla procura della Repubblica di Larino con il contestuale avvio di un procedimento penale al loro carico. A breve saranno interrogate, dovranno spiegare le ragioni del gesto e rendere conto alla giustizia. Intanto le indagini panno avanti per capire se altre persone possono aver avuto comportamenti simili nelle ore del rogo che ha causato danni ingenti alle coltivazioni e alle abitazioni del paese.